... mi prenderemo da ragazzi ti devo fatti a portare vado a uscire e' la mia bendita vado a uscire vado a uscire vado a uscire vergogna vergogna pudding mandarete spuse di pure, tasche è tutto 7 ore dell'ISIS e stavi chiangendo stavi chavi chiangendo vergognate che vergogna che vergogna che vergogna che vergogna che vergogna